We're beautiful We're beautiful We're beautiful Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gletto Reggio Rosso 94 Faccio questo video diciamo un po' improvvisato perché voglio mandare una sorta di messaggio a tutti quei tifosi napoletani che in questo momento sono delusi e amareggiati per la cessione di Higuain alla Juventus ed è questo il dettaglio principale che fa più rabbia nell'ambiente partenopeo il fatto che il giocatore più importante della propria squadra sia andato via alla Juventus una rivale storica e qua lo ripeto ancora una volta per chi non l'avesse capito rivale storica non vuol dire che abbiamo gli stessi scudetti, le stesse coppe, che abbiamo vinto le stesse cose la rivalità non si conta solo in base ai trofei per esempio Roma e Juve sono squadre rivali ma ovviamente noi abbiamo vinto tre scudetti e loro hanno vinto i 32 ma non vuol dire niente quanti trofei sono stati vinti ma la rivalità è conta anche da diversi fattori Roma e Napoli si odiano ma non è certo per i trofei è comunque però una rivalità che c'è da diversi anni ma trascendo questo piccolo dettaglio che volevo farvi chiarire voglio inviare questo messaggio perché voglio dirvi che vi sono vicino vi sono vicino perché comunque anche io da romanista so com'è la situazione quando un giocatore importante della propria squadra che tu credi voglia rimanere nella tua squadra va nella rivale più importante e una delle squadre più odiate in questo momento so com'è la situazione perché io capisco non capisco quei tifosi che adesso bruciano le maglie o che gli augurano la morte e cose del genere però capisco quelli che ci sono rimasti veramente veramente male perché diciamo che io faccio parte di quella categoria di tifosi romantici se così si può dire quei tifosi che pensano che i giocatori siano dei guerrieri che vogliono combattere per la nostra squadra per vincere una battaglia niente senza voler esagerare però invece dobbiamo capire bene che c'è determinati giocatori quasi l'80% viene in una squadra per vincere e per i soldi ma non è che gli interessa tanto l'ambiente in sé per sé mi spiego meglio i guaini e pianici perché sono andate alla Juve perché gli piace l'ambiente di Torino no per vincere i trofei e basta e per guadagnare un po' più di soldi ma diciamo che è più importante vincere i trofei noi invece purtroppo pensiamo che i giocatori in campo abbiano tutti l'amore per la propria maglia che abbiamo noi tifosi ma purtroppo ci dobbiamo mettere in questa testa che non è così tutti i giocatori, quasi tutti quasi tutti i giocatori lottano per la propria maglia, per i soldi e per vincere qualcosa e ci può stare ci può stare ma di sicuro non hanno l'amore che noi tifosi ci mettiamo nel tifare questo ci dobbiamo mettere in testa purtroppo perché se no andremo avanti con continue delusioni se invece smettiamo di illuderci e di credere che determinati giocatori amano la maglia come l'amiamo noi sicuramente quando questi se ne andranno via vedremo la cessione con meno rabbia meno delusione perché comunque capiremmo la sua decisione di andare a guadagnare più soldi per esempio io Pjanic credevo che dopo 5 anni avrebbe sposato appieno il progetto Roma anche se alla fine è vero che non si vince tanto però comunque speravo che gli sarebbe piaciuto continuare a lottare per questa maglia per poter un giorno o l'altro raggiungere questo obiettivo ma purtroppo non è così purtroppo lui ha capito che lui in sé per sé preferisce vincere i trofei piuttosto che lottare in una squadra più piccola per provare a vincerli più avanti lui li vuole vincere tutti subito e giustamente è andato alla Juve e io l'ho detto cioè ve l'ho detto adesso se io non mi fossi affezionato a lui non me ne sarebbe fregato niente purtroppo io come molti napoletani in questo momento ovviamente ci siamo affezionati a giocatori come Pjanic e Guain il cui unico scopo è guadagnare tanti soldi e ovviamente guadagnare i trofei alla faccia nostra cioè quindi è questo il consiglio che volevo darvi che vi sto vicino ovviamente parlando sempre a termini calcistici non voglio certo paragonare queste cose alle tragedie che purtroppo succedono nel mondo però comunque parlando a livello calcistico vi dico che vi sto vicino e capisco benissimo la vostra delusione come per Pjanic però non bisogna esagerare con i termini primo perché non ne vale la pena prendere tanta rabbia e incazzarsi per persone alle quali non ne frega un cazzo secondo perché non ne vale la pena per quei giocatori che invece vogliono lottare per questa maglia quindi invece di spremere le nostre meningi per arrabbiarsi ulteriormente per giocatori che se ne sono andati via per vincere e non gli è interessato minimamente lottare per la nostra maglia pensiamo a quelli che ci sono adesso nella nostra squadra quindi un consiglio a voi napoletani ma in generale a tutti quelli che subiranno o comunque subiranno una cessione dolorosa lasciate perdere quel giocatore quando il giocatore firmerà per un'altra squadra deve essere cancellato dalla memoria praticamente lui è andato in un'altra squadra voi dovete pensare solamente ai giocatori che lottano in questo momento per vincere con la vostra maglia ma vi do un altro consiglio che avevo dato anche qualche video diverse settimane fa non affezionatevi quasi per nulla ai giocatori perché molti vi possono dare una delusione cocente quando meno ve lo aspettate quindi sì, se i singoli fanno tante belle cose con la nostra maglia per carità bisogna essere contenti però non bisogna mai pensare che loro hanno lo stesso amore per la maglia come ce lo abbiamo noi tifosi perché a parte rarissime eccezioni non è minimamente così spero che apprezzerete questo mio consiglio spero che lo seguirete perché non vale la pena fare cortei spaccare robe e tutto quanto per un giocatore alla quale, lo dico forte, non gliene frega un cazzo e in ultimo come clip bonus voglio fare una sorta di piccola provocazione a tutti quei tifosi juventini che stanno facendo i saccenti i professoroni di stirpe per quelli che hanno capito agitazione ma a parte i scherzi quegli juventini che dicono madonna quanto siete ridicoli fare quelle robe per un giocatore che se ne vede una squadra ma i giocatori sono professionisti fanno quello che vogliono è sempre facile parlare quando i giocatori vengono acquistati anche io farei il sapientone se tutti i giocatori vanno via da altre squadre per venire da noi state comprando chiunque state comprando è ovvio che fate i sapientoni ehi io non avrei mai fatto una cosa del genere per parlare di queste cose vi ci dovete trovare nelle situazioni noi siamo due squadre che non vinciamo praticamente niente e i pochi giocatori forti che abbiamo li stiamo dando a una squadra che odiamo chi è che non sarebbe incazzato e lo ripeto ancora una volta e non giustifico chi fa i cori tipo i guain devi morire o cose del genere ma non potete fare sapientoni del tipo ehi noi non avremmo mai fatto una cosa del genere ma chi siete voi ma chi cazzo siete voi qualcuno ha detto ehi ma noi quando gli brandò dalla Juve all'Inter che sono due rivali non dicemmo niente e ci mancherebbe altro volete paragonarmi Napoli e Juve in questo momento quando in quel momento la Juve era in serie B e lui ha scelto tra una squadra in serie B e una che poteva vincere lo scoleto in serie A sono due cose un pochino diverse c'è un distacco leggermente maggiore tra le due cose io questo comunque volevo dire per concludere non fate i sapientoni accettate la delusione di noi tifosi quando queste cose succedono perché noi non solo dobbiamo subire queste cose ma anche il fatto che non vinciamo praticamente mai e voi potete giudicare la nostra situazione solo se vi troverete per molto tempo nella situazione che ci troviamo noi se no state e dovete stare zitti e pensare soltanto alla vostra squadra piccolo consiglio generale grazie a tutti